Era il 23 febbraio, sì, sette mesi fa, proprio il 23 febbraio. Lo ricordo come fosse ieri, quella mattina correvo, correvo, correvo all'impazzata, correvo dietro, correvo dietro la mia vita, dietro quella speranza. Per un attimo mi è parso di perderla, ma con un colpo di mano, eccolo. Eccolo, l'ho presa, ce l'ho tra le mie mani, la mia vita, la speranza, il grande sogno. Quel sogno che porta un peso enorme sulle mie spalle, giorno dopo giorno, minuto dopo minuto. Ma durante il viaggio mi chiedevo sempre, perché lo faccio? Ma cosa c'è ad aspettarmi? C'è qualcuno? C'è qualcosa? Non lo so. Non c'è nessuno, ma c'è lei, la bella e grande Roma.